Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Io sono Anne e oggi sarò su una mappa che si chiama Rainbow Run 2 Edition. Vabbè, in questo momento sto chiusando una cosa. Ma perché Anne vado qua? Sarà più bello! Stupida! No, mi è più chiara! Io mi sono... Va bene, ora faremo una bella gara. Potete cogliere il piove, grazie. Ma lei mi colpisce un fulmine ancora e dopo mi arrabbio. Allora mettiamo Ivy, mettiamo close. Finito! Io vedo ancora la pioggia! Provarci, non lo so. 1, 2, 3. Vabbè, perché a te non funziona. Vabbè, comunque dai. 3! Guardami. 3, guardami! 3, 2. Questo qui è la tua scuola e questo è la mia. Questo in mezzo non c'è nessuno. No, quello è l'altra parte. 3, 2, 1. Aspetta, via! No, sono caduta! Non so come ho fatto a cadere, sinceramente, però sicuramente vince Lollo. No! No, ho caduto in questo momento. Devevo morire! Sei morto. Ciao, Anna. Scusate un secondo. Ok, eccoci. Dove sei? Sono qui. Andiamo parlando di bassa voce. Riprendiamo dalla partita. Aiuto. Sì, sono caduta. E perché mi scivola le mani? Le mani sono scivolose. E' stato che non so come identifica di te. Devo cadere? Spendere come una scimmia. Ma perché oggi non mi viene? Vedete perché oggi non mi viene? Non lo so. Allora, basta un pochino. Scusa, Anna. Devo infrangere le torcchie. Le torcchie sacre. Dove? Ma come? No, la rancun blocco. Ma siete feri? You are ready for Lollo. Passa dalla tua corsia. Sono un balantham shower. Perché la mia corsia è più lunga della tua. E quindi non vale. 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 Perché mi fai salti minuscoli? Perché non chiaro succede. Che rabbia. Rage, quitto. Non lo fai e quittare? Come lo fai e lo sai? Ah, ok. Oggi ho fatto la pace fist in 2,3 secondi. Tutta? Sì, tutta. Vabbè, tranne... Perché non so, tipo... Tranne cosa? Mi si era buggata la parte in cui dovevo diventare amico di Undyne e di Papyrus. Non so se l'ha buggato. E quindi non posso avere la truppe. E quindi non posso avere tutto il gioco da capo. Vi rendete conto. Lollo, guarda su. No, ho mancato. Cosa? Stavo per dire, Lollo, guarda su. Perché guardi su? Perché così mi vedevi. Ah, interessante. Ti seguo. Grazie, hanno andato a seguirmi. Perché semmeno vincerò prima io, no? No, non è stato accadere. Non lo so, Anna. Tu sei il bug fatta persona. Ma se siete il bug fatta persona? Non lo so. Non è di te, Mr. Bug? Infatti, ma Mr. Bean. Cosa faccio qua? Come si fa qua, Anna? Dove sei, Lollo? Qui, alla torre. Alla torre. E' da là, Lollo. Come faccio? È semplice, è semplice. Lo dico io. Non deve andare fino a qui, tipo? No, no, da là. Anna. Mi stai... Sì, non c'arrivi. Ti avevo detto io. Non c'arrivo non mai alla fine. Però, Anna, dobbiamo andare tutti e due alla fine. È una cosa impossibile. Infatti, anche. Però io, alla fine, non riesco a regarci. È impossibile, alla fine. Non ci siamo arrivati. No, sì, no, non ci siamo arrivati. Ma perché non posso cadere? Io. Il tuo gomito. Perché? Il tuo gomito non è grande. Non lo, perché c'è il trampolino, c'è il tuo gomito. Non riesce a fare il salto. È impossibile il salto. Alla fine c'è un trampolino da fare. E devi seccadire per andare il blocco, no? È impossibile. La gelazione sacra, proprio. Buongiorno. È pure un dropper, quindi? Non è un dropper. Sono caduta. Proprio il motivo che non è anche saltata, mi sa? Ah, sei caduta e quindi arrivò la prima io. Ah, sì, provo. Allora, prima, prima. Uffa, lì, dove ne credo l'ultimo, però ricordatelo? Ma ti so che ho detto l'ultimo? Credi, proprio io. Non è vero! Mi faccio tutto di nuovo. Va bene. Un altro secondo, eh. Un altro secondo. Ginnastia, no, perché caderebbe? Cosa c'entra, Lollo, scusa? Sì, sì. Guarda, Lollo, questo è un metodo. Guarda, vedi, questo è un metodo per fare i salti meglio. Cioè? Cioè andare sempre dritto. Mi salti più picco. E salti quelli tipo, quelli, aspetta, ve lo faccio vedere. Tu seguimi, Lollo. Ok, ti seguo. Ah, così dopo le prima tre. Tipo in questo? Tu fai dritto? Fa il salto subito. Se tu naturalmente hai messo con per salti. Come ho fatto? Vedete come ho fatto a battere questo giro? E io invece? Buongiorno. Sì. Ah, già, basta, ve lo faccio vedere. Ti faccio cadere, ti faccio cadere, ti faccio cadere, ti faccio cadere, ti faccio... No, 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 no. Addio. Ma io posso soltanto picchiare e posso anche rompere i blocchi? Posso rompere i blocchi, mi sa. Dai, mi dite tutto, scusa. No, eh sì, rompere i blocchi, dopo mi distruggi la mano. No, giuro, 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 dai. Adesso no, dopo. Magari quando facciamo un pvp, alla fine, dopo che c'è. Un pvp? Sì, perché alla fine. Favremo un pvp? Questo non era il programma. Che sai, copione. Dai, ma sei immagata, stupida notte. Facciamo che prima che arrivi finisce, non c'ho voglia di fare anche... Ma sta prendendo notte. Vabbè, mica c'è un mostri. Però mi sa, mi sa, mi sa, mi sa facile. Mi sa con i mostri sul parkour, dopo che impossibile. Mamma, ho tutto. Ok, mi sa facile. È, ma ci dico. Questa cosa è semplice, dopo un po' che ci provi. Sì, va bene. Tu ce l'ha fatto 50 volte. Sì, esatto. Sono stati un sacco di multigiocatori come ho fatto questo qua. Camminiamo. Buongiorno, mi vedi? Girati. Sai che ti c'è? Potrei avere un arco, grazie. No, alla fine sia, se lo vinci. Cioè, vinco, ma tu... Non ho senso, perché se tu arrivi alla fine e tu hai tutte le armi e mi uccidi. Cioè, cosa vuol dire? Che l'unica è? No, 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 no. Ti vedo, eh. Lollo, dai, Lollo, ti prego, no. Lollo, ti prego. No, non faccio niente, giuro. Ti ho visto, cioè, l'arco. Non è vero. Lollo, però se mi uccidi, però ti uccido io. Nella realtà, però. Ehi, va bene. Ah, io sono caduta dentro il regalo. Ahia! Guardate, ho questo piccolo momento di schifo. Lollo, non ci provare più, eh? Non mi blocchi, se no io posso. Quindi... Mi ha paura. Basta! Basta! Grazie! Grazie! Ora, vai farli parkour. Ma forza, basta! Che stavo per finirlo, te mi hai sconfitto. Oh! Ho superato un salto. Mi sono tornati sconfitta. Basta, fammi ridere. Perché stavo ridendo, no? E perché stai ridendo, te? Cioè, stai ridendo. Io stavo ridendo. Ho le mani sudate. Guarda! Sembra che sia tipo... Ho le mani sudate. Ti mi scrivono il telefono. C'è la 6% il mio telefono. Non ci stavo facendo! Ma non vediamo che bisogna abbassare il volume? No, perché dopo te mi prendi la... No, no, non voglio. Poi ti vedo, eh. Guarda che quando vado... Non provi! Guarda che se ti provi ti chicco, eh! Ti chicco veramente. Faccio entrare un'altra gente che non conosco. Guarda, ci prego. Allora... Non lo devo leggere qua. Cryzer. Provi per la fine. Quando vinci. Cryzer. Previ per il di Kitty Puppi. Guarda, se ci provi, guarda che... Veramente... Veramente. Ah, no, sono trappolato qua dentro. Bene, sta lì. Anna, dai, vedi che non possono un po' i blocchi. Va bene, basta che non distruggi la mappa. No, giuro di no. Giuro di no. Giuro di no, esatto. Dai, che sono un po' in alto. Lo accado, di sicuro. Ho caldo. Sto ne so caldo. Sei inciampato. All'inizio, cioè. All'inizio. Dove sei inciampato? Ciao, Lollo, mi vedi? Girati. Lollo! Lollo! Ti chicco, eh? Veramente? No, 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 no. Scusate, ho fatto pausa. Che Lollo mi ha fatto arrabbiare. Ora ti uccido, eh. Prendo un bellissimo arco. Ti uccido. Dai! Veramente dire se Lollo è stupido. Ho già fatto. Dai! Rimetti i blocchi subito. No, no, lo faccio. Ti chicco, eh? Tre. Scusate. Ecco. Dai, Lollo. Ho l'idea, autoconfiamoci. Eh, sì, autoconfiamoci. Io ce l'avevo fatta, io. Perché? Basta ti chicco, addio. No, no. Kick out. Ecco. Così impari. Scusate. Scusate, però la fine è molto strana, ma... Per oggi può essere tutto. E ciao, e al prossimo video. Spero che il video vi sia piaciuto, perché non vediamo proprio un video di quelli... Dico intelligenti un po' stupido, ecco. Ciao.